Se la mia macchina si ribalta il video finisce Bella ragazzi volevo ricordarvi che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'idem shop Nella sezione supporta un creatore Inserite il codice creatore porto come vedete a schermo Accettate Da ora ogni volta che farete un acquisto mi arriverà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Se l'auto si ribalta il video finisce Io sinceramente cioè nel senso credo che questa sfida verrà persa ragazzi Perché in realtà è la quarta volta che ribalto un'auto Mi sono scocciato di ribaltare auto nella mia esistenza Sembra che so fare solo questo Cioè se volete ribaltare un'auto chiamate me A parte che non ci sono armi cavolo C'ho un tizio in testa un tizio sulla destra sono circondato Qua c'è una cesta no? Esatto ok Allora vediamo un attimo Fucile a pompa Guardate è la prima volta che non preferisco il fucile a pompa appena starto Via 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 Mi serve questa cesta pensandoci Qualcosa di decente qualcosa di decente Comunque raga cavolate a parte Per cercare ovviamente di rendere la sfida un po' più nesti Utilizzerò principalmente all'interno del game delle auto Cioè mi muoverò principalmente tramite le auto E per quanto possibile anche durante i fight magari Però ovviamente sempre in maniera limitata Cercando di portare avanti la partita e di vincerla Però comunque sarò molto Andrò molto sul rischio ok Quindi le utilizzerò davvero molto le macchine Per ora non credo sia il caso Perché abbiamo appena startato E non abbiamo neanche la situazione favorevole per farlo Infatti questo tipo è già un po' pericolosetto Mi ha fatto un po' malascio Però non fa niente Questa addirittura c'aveva una oggi Direi che possiamo in realtà già andare a muoverci in giro con l'auto Mi curo un attimo per raga Andiamo a prenderla Perché qua di solito almeno una spona sempre Quindi non mi faccio più di tanti problemi Questa credo che sia effettivamente un'auto Me la fa spottare Sì ok a posto Altro nemico Secondo voi questo si fa buttare sotto Però prova Proviamo Questa dovrebbe essere una pseudo auto da corsa Se non sbaglio Dovrebbe essere di medio alta fascia A parte che questo non lo posso fare Devo scendere Ma è cazzato nero sto tipo Oh Oh Ma è un brigante No Ah è un bot e basta Ok No era un bot Era un bot ragazzi Calmi tutti Era un bot ok A posto va bene Allora dove è Già l'ho ribaltata No ok Come potete vedere la mia auto è dritta Bella normale Quindi non ho sbagliato niente Direi di andarcene però Quasi quasi andiamo qua ragazzi Dai ci facciamo il giro per andare a pleasant Facciamo così Tra l'altro ragazzi Ovviamente direte voi È ovvio Però voglio specificarlo C'è una netta 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 differenza Tra quando cammini sulle strade Diciamo cementate Insomma Adibite alla guida Che alle strade invece Che non sono adibite alla guida Quindi quelle con l'erba Perché spona sempre qua All'improvviso un camion Mi fa sempre baggare la vita Questo camion Aspettate un attimo Che sotto mi pareva Di aver sentito Una chest leggendaria Epica Vabbè avete capito A parte un lama Ho visto anche un lama Mamma mia Bello fresco Abbiamo trovato un bel po' di roba ragazzi Calmi tutti Vi voglio ricordare comunque Che la sfida la dobbiamo vincere Quindi ma a prescindere da tutto Allora vediamo un po' Eh vabbè Diciamo che era abbastanza evitabile Cado qua in acqua Mi sfondo le gambe Ti prego dimmi di no Va a posto Ci prendiamo il lama Così riprendo un po' tutti i materiali Che ho utilizzato lì Risaliamo Ci prendiamo l'auto E sediamo Facciamo così Ok let's go Qua in zona nessuno Sicuri Pleasant vuota Anche se faccio un po' di casino Ok no c'è Questa era Stava qualcuno nella macchina Mamma mia signori Mamma mia ma cos'è successo Fa un po' male la testolina Per caso eh Fa un po' male la testolina GG per noi Ok ritorniamo in auto ragazzi Voglio un game aggressive Noi la dobbiamo ribaltare Questa macchina fra La ribaltiamo Avete capito bene Ragazzi la dobbiamo ribaltare Quindi let's go Non fermiamoci Continuiamo a girare per la strada Per quanto possibile In modo da renderci un po' più piacevole Il viaggio E let's go Un'auto sulla sinistra La sento La vedo Ci sono due auto Rientra Ti conviene Cavolo Ho rischiato eh Ho rischiato Ok Fa niente dai Mi faccio tutte queste Raga Dovrei farmi quella grande Me ne rendo conto Ma non fa niente Riesco a fare così Così sono un po' più veloce Andiamocene Era solo un'auto Comunque non erano due Ok Andiamo Tra l'altro a breve Credo ci convenga Già fare benzina Lo so che abbiamo ancora Circa il 60% di benzina Però Non lo so Non mi fido molto Di sta cosa No c'è qualcuno C'è qualcuno ragazzi C'è Sta qua Allora Per quanto vorrei utilizzare Ragazzi La macchina In questo caso Non ha proprio senso Vorrebbe dire perdere Perché la macchina Non se la cava proprio bene Sull'erba Se la strada non è asfaltata Non è il caso Quindi lasciamo stare Ok Un eliminato A posto così Scusatemi un attimo L'apnea Ma la situazione L'avete vista Non era al top Lì c'è qualcun altro Credo che ci convenga Mentre qualcuno Non ce l'abbè riubata Questo qualcuno Se l'è presa Au Unfamer Torna qua Si è presa la nostra macchina Ma io devo andare Su quello che si urbato La macchina Che non era lui Vabbè però Ci troviamo Poverino Diciamo che si è trovato In mezzo Però vabbè Tra i tre litiganti Il terzo a bosca Cioè così Mi serve la mia macchina Che fine ha fatto Vedatemi la mia macchina Aia 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 Oh Ok 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 No vabbè Non te lo faccio fare Ovviamente Guarda Lascia stare Perché Già l'ho giocata male Troppo Vabbè pure a far così Vabbè Diciamo che Non ti doveva andare così Dai Ok Mi sono bloccato All'improvviso Non so perché Non ho più sparato Va bene Diciamo Oh Vabbè Due jump Ok Non è un problema Però volevo girare Con la macchina Fra Mi hanno urbato la macchina Luridi Qui è di authority Scordiamoci di muoverci Con Le jump Cioè con le macchine Ragazzi Perché qui la zona Non è per niente adatta All'utilizzo di macchine Sì ma qua Gente ci deve stare per forza Dai Gli ho visti sparare prima È impossibile Che non ci sia nessuno Non aveva capito che c'ero Mamma mia quanto godo Mamma mia quanto sto volando Fra Quanto sto volando Ok Calmi calmi La drum gun me la prendo Va bene La drum gun me la prendo Però ragazzi Lo sapete Lo potete immaginare Indovinate Non voglio prendere invece il rampino Il rampino non è qualcosa che voglio prendere Perché altrimenti so che io l'auto non la prendo più Ma la sfida ragazzi È quella di non ribaltare l'auto E dobbiamo rischiarla tutto il tempo del game Per quanto mi riguarda Quindi mi spiace Ma niente rampino Me ne vado ma niente rampino Però dobbiamo trovare un'auto Ok l'auto c'è Non ancora Si sta facendo il giro Si sta facendo il giro Mi ha visto sicuro Vabbè ora lo sto sparando Quindi non è impossibile Eh vabbè frate Ti è andata male Sta un altro dizio dietro di lui Ma quanta gente c'è Oh ma stiamo scherzando Mamma mia Ma che noia Ok uno Curami Grazie Però quello è un problemino Quello è un problemino Non so chi sta sparando però Ah Sta sparando un tizio Che sta su di me praticamente Bene Questo è bravo Mamma mia GG Via Via Ok Allora sta un altro la Scostruzione da poco Ok raga possiamo farci 13 kill E portarci a casa in realtà anche la sfida So che non l'ho utilizzata molto le macchine Ma ho fatto del mio meglio comunque Però una buona parte del game l'abbiamo avute Dai Le macchine le abbiamo utilizzate per poco Avete ragione Però Dobbiamo ancora fare l'ultima kill E qui abbiamo due macchinine Che dite se Se magari No Vediamo un po' Devo vedere se riesco a farlo uscire in qualche modo Perché credo sia un bot Credo sia un bot Quindi l'ultima kill me la posso fare pure con l'auto Cavolo Questo è un po' complicato Oh è uscito 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 Ah Lasciami stare l'auto Grazie Sta lì Non mi vede Non mi vede Non mi fare male Ti prego Colpito 59 Insistiamo 42 Insistiamo E dai E ho limitato con l'auto E ho limitato con l'auto Fratellito Sei manco ribaltata GG per noi E ho limitato con l'auto